Si è tenuto stamane l'incontro tra il prefetto di Chieti, la ASLE, una rappresentanza di sindaci della provincia collegati in videoconferenza sul monitoraggio delle vaccinazioni. Sentiamo allora che cosa ha dichiarato il prefetto Armando Forgione sulla campagna di somministrazioni nel Chietino. Nell'ultimo comitato per l'ordine della sicurezza pubblica abbiamo messo a punto un sistema di controlli che sarà ancora più pregnante rispetto al territorio perché come sapete sabato, domenica e lunedì sarà zona rossa in tutto il territorio nazionale. Quindi i divieti di spostamento sono ancora più marcati e in ragione di questo è naturale che anche i controlli delle forze dell'ordine saranno mirati. Ovviamente è da evitare le gite fuori porta, le pasquette fatte all'aperto in zone rurali. Sono tutte cose da vietare in maniera assoluta, senza ombra di dubbio. Quindi oltre a fare appello al senso di responsabilità che è quello al quale aderiscono il maggior numero delle persone però bisogna stare attenti a quelle persone che invece questo senso di responsabilità non hanno.